Dammela a me. La condizio sine qua non era ad ottenere la concessione della linea per cinque anni. E con personale tutto italiano. Ed è proprio questo che l'avvocato Vallais non avrebbe voluto. Gente sicura ci voleva. Per il resto i soldi sono nostri. C'è un ragazzo di là che chiede del signor Concaro a una lettera del signor Zebagios e la vuole consegnare personalmente. Zebagios? Allo passare. Faccio passare. Ti sarò molto grato se mi provoverai un passaggio gratuito fino a Rosario. Ti ringrazio? Bene. Benissimo. A Zebagios non posso dire di no. Un italiano di più sulla stella per il viaggio inaugurale. Ci porterai fortuna ragazzo. Non sai far niente vero? Ma... Meglio. Farei di tutto per guadagnare. Il mozzo magari. E a... Come stai? Ho un pezzo signor Concaro. E' il principio di un milione ma è poco. Io non avevo neanche quello quando ho cominciato. Beh non fa niente. Lascia stare. Vieni qui. Dammi il cappello. Su vecchio. Caccia vecchio. Questo coraggioso ragazzo solo in America e in cerca di sua madre merita tutta la vostra simpatia. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Vieni, vieni, vieni con me. Anche voi. Grazie, grazie. 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 Guarda, guarda. Vieni, vieni. Come ti chiami? Marco. Grazie, grazie per il ragazzo. Bravo Paolo. Forza per il ragazzo. Grazie, grazie. 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 Vieni, bambino, vieni. Ecco. Grazie. Grazie. Grazie.